metropolis calcio ben ritrovati in diretta fino alle 14 30 con michele lanatti ciao 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 buon pomeriggio a tutti allora ci troviamo non solo a pensare al futuro ma anche a guardare la partita di ieri questa frenata dell'inter un po da analizzare direi che da cosa è di peso a secondo te questa situazione forse il turnover poi non è la stessa cosa che il ma secondo me allora da un po di stanchezza complessiva della squadra che complice anche il fatto che i giocatori dell'inter sono stati molti di loro in giro per il mondo per gli impegni con i loro nazionali è sembrato un inter complessivamente un pochino stanca non col solito mordente con la solita cattiveria e un pochino forse già con la testa rivolta alla gara di champions molto impegnativa contro il manchester city però adesso dirò una cosa magari un po particolare ma tra le due partite secondo me è quella di ieri che andava vinta perché a manchester ci può anche stare che perdi non è detto che perda ma ci può anche stare e non dipenderà da quello il passaggio del turno meno lo scudetto non è che dipende dalla gara di ieri però sarebbe stato importante vincere per mantenere la vetta assolutamente sì quindi tu dici bisognava concentrarsi ne parleremo dopo la telefonata pronto porto si sono ordine da piacenza ben trovato una domanda alla nati si è qua come come ha detto gambero in questi giorni intermissione allora quest'anno per la juve sarà un po l'anno come si dice di transizione visto con la rio di tiago moto tutti noi giocatori eccetera e quindi l'anno che punterà decisamente a vincere lo scudetto sarà l'anno prossimo e quindi quest'anno la juve c'è dove grazie buon pomeriggio grazie buon pomeriggio anche a te allora secondo me le due domande sono anche collegate nel senso che capendo che anno sarà probabilmente per la juve capiamo anche dove arriverà in champions allora anno di transizione no secondo me no no perché quando spendi tutti quei soldi per prendere dei giocatori teoricamente pronti subito copminers douglas luis nico gonzalez cioè comunque giocatori importanti che hanno già dell'esperienza giocatori che sono abbastanza nel pieno della maturazione per cui nel momento in cui tu vai a fare quel tipo di operazioni spendendo tanto pretendi dei risultati io non penso che la juve questo possa essere un anno di transizione per la juve peraltro se vale per la juve allora può valere anche per altre squadre è vero che la juve rispetto alle altre ha cambiato di più però rispetto alle altre ha fatto un mercato molto impegnativo spendendo tanti soldi e rinunciando a tanti giovani che secondo me possono fare una buona carriera avrebbe potuto far comodo alla juve in prospettiva però è stata fatta una scelta sacrifichiamo per ragioni di bilancio i giovani per avere i soldi per andare a prendere giocatori che teoricamente dovrebbero garantire subito un rendimento elevato per cui stagioni di transizione no che poi riesca a essere competitiva o meno per lo scudetto secondo me sì ma non è detto vediamo sta avendo qualche difficoltà in più forse rispetto al previsto ma ci sta perché tanti giocatori sono arrivati alla fine vanno inseriti per quanto riguarda la champions non la vedo come una delle possibili protagoniste poi magari ci sorprenderà ma non mi pare una squadra che possa ambire a vincerla può essere una squadra che deve puntare a passare il turno ecco il primo turno quello sicuramente parleremo anche di champions juve dopo la telefonata pronto? pronto sono Robi lo dicevano grazie ciao se il Milan riesce a vincere con il Liverpool ma allora il Liverpool è una squadra sicuramente forte più forte del Milan secondo me è incappato in una sconfitta interna un po' a sorpresa il Liverpool è una squadra che secondo me allora per quelle che sono le caratteristiche del Milan può anche concedere delle occasioni al Milan perché il Liverpool è una squadra che attacca con tanti uomini ma lascia tanti spazi in contropiede è chiaro che quando attacca fa paura perché ha una grande tecnica individuale però è una partita che secondo me anzitutto può essere una partita molto divertente e poi può essere una partita che esalta le caratteristiche paradossalmente sia di una squadra che dell'altra comunque partita molto difficile ecco poi dobbiamo dire che c'era Ibrahimovic a seguire la rifinitura pre-Liverpool insieme a Moncada quindi anche questa è un'informazione che ci è utile ad organizzare esatto pronto si buongiorno Mauro da Milano buongiorno volevo l'opinione dell'ospite di studio io ieri ho visto un Napoli molto ordinato in campo con la mano di un grande allenatore dove i calciatori hanno veramente seguito tutta la linea di organizzazione che ha voluto mettere il campo fonte secondo lei può vincere il Napoli questo scudetto se non saldo se va avanti a giocare così convinto e quadrato con quell'allenatore grazie buongiorno grazie buongiorno poi andiamo verso Juventus Napoli e quindi sabato e l'ambiente è caldissimo effettivamente io ho amici che ti fanno Napoli che sono fuori fuori di testa molto felici allora il Napoli è un tema interessante per due motivi prima di tutto perché il Napoli è un'altra squadra che ha cambiato parecchio non come la Juve ma comunque ha cambiato parecchio si è privata di fatto del suo giocatore più importante anche se ne ha preso un altro importante lì davanti è curioso il fatto che sabato gioca contro la Juve se dovesse vincere secondo me già imprime un segnale da un segnale importante al campionato teniamo anche presente che il Napoli non ha le coppe quest'anno secondo me non avere le coppe sarà ancora più importante peserà ancora di più rispetto al passato perché la Champions è più lunga e teoricamente ci sono più partite anche già nella fase iniziale e teoricamente dovrebbe essere più competitiva per cui dovrebbe portare le squadre ad avere uno sforzo superiore noi abbiamo visto negli anni scorsi molto spesso su sei partite del girone magari le ultime due erano scontate ammettendo che possano e non è detto che sia così essere scontate le ultime due comunque ce ne sono sei peraltro è una Champions molto particolare perché affronti avversari molto diversi non affronti gli stessi avversari andati a ritorno e quindi comunque anche la preparazione delle partite deve essere fatta praticamente ex novo ogni volta quindi secondo me il fatto di non avere le coppe sommato all'aver preso Conte che per me è un grande allenatore può portare Napoli a essere una serissima candidata per lo scudetto un pochino mi sorprende che il Napoli considerando come è partito cioè con una sconfitta subito all'esordio che sia già in testa adesso vediamo l'Udinese magari stasera scavalcherà il Napoli però che il Napoli sia già diciamo nelle primissime posizioni e forse abbia già trovato una quadra quella in ottica a scudetto può essere molto importante e sì potrebbe essere la quarta vittoria consecutiva questo sicuramente sarebbe un valore e poi che pesantezza cioè se vinci contro la Juve insomma è un segnale forte infatti il settore ospiti dei tifosi azzurri è già soldato da un sacco di temi ma ancora prima che si sapesse questa situazione ma poi ci sono un sacco di temi Conte che affronta la Juventus d'avversario la Juventus che poi ne parliamo non sta attraversando non è partita benissimo è partita bene però nelle ultime due partite abbiamo visto che c'è ancora parecchio da registrare quindi tante tematiche da una parte una squadra che sembra veramente già aver trovato la quadratura del cerchio l'altra invece che è in costruzione poi magari sabato succede che quella in costruzione batte quella che sembra già consolidata è un po' il bello del calcio però ci arrivano in modo molto diverso Telefonata pronto? Ciao Stefania sono il vero Robi da Vigievo ci sono anche gli imitatori sì ci sono gli imitatori allora perdonami ma noi preferivamo avere subito il vero una domanda l'hai fatta e almeno per oggi diciamo che abbiamo risposto ma è lui che imita se stesso quindi non si sa non si sa però voi sapete e non ce ne vogliate che facciamo una domanda a testa per trasmissione in modo che possiamo insomma alternarci nella migliore dei modi tutti dicevamo la cosa fondamentale per favore chiediamo anche di non richiamare non insistere per dare spazio a tutti gli altri di intervenire altrimenti poi le telefonate non riusciamo più a prendere ed è un peccato anche perché dobbiamo parlare di tante cose con voi tu dicevi Juve bene ma non benissimo perché? perché contro l'Empoli secondo me allora già con la Roma si era visto qualche problemino perché la Roma non sta attraversando un periodo brillante tutt'altro eppure con la Juve diciamo è stata una partita un pareggio tutto sommato giusto però non si è vista una grande Juve e secondo me già lì qualcosa che stava scricchiolando e che forse è stato sottovalutato bisognava iniziare a capirlo contro l'Empoli abbiamo avuto la conferma c'è una Juve dubbiamente superiore all'Empoli tu puoi anche andare a Empoli e non riuscire a vincere ma se fai quel tipo di prestazione è un problema tenendo presente che ha rischiato anche di perdere nel finale mi dà l'impressione che la Juve è partita con grande entusiasmo però forse paradossalmente ha ottenuto i risultati quando i nuovi non erano ancora arrivati i nuovi che adesso ci sono e gioco forza vanno inseriti il processo di crescita sta andando un po' a rilento anche perché c'è questo pessimo vizio delle società italiane nel loro complesso di prendere i giocatori gli ultimi giorni di mercato e quindi per gli allenatori diventa molto complicato poi inserirli Motta ha parlato e ha caricato la Juve ha detto che la Champions hanno orgoglio dobbiamo fare una grande partita staccandosi da quello di cui parlavi tu ovvero della partita con l'Empolis pensando alle nuove emozioni della partita lui dice questo nuovo formato mi piace insomma quella carica iniziale lui prova ancora ad infonderla poi c'è tutta la questione anche di Vlaovic che la stessa gazzetta scriveva il mal di gol allora sulla gara col PSV non è facilissima perché il PSV sta attraversando un ottimo momento di forma e è l'esordio è il ritorno dopo oltre un anno di distanza del Juventus in Champions insomma ci sono vari elementi che fanno sì che questa partita possa essere da una parte affascinante ma dall'altra pericolosa Tiago Motta dice che gli piace questa nuova formula vedremo io sono curioso di vedere come sarà perché sicuramente è diversa proprio per come è concepita rispetto a quello a cui eravamo abituati e secondo me come dicevo prima è ancora più impegnativa sul caso Vlaovic lì ci si interroga se questo giocatore che indubbiamente non sta ripetendo a Torino quello che aveva a livello di rendimento quello che aveva mostrato a Firenze bisogna capire quanto la colpa sia la sua e quanto invece della squadra che non lo mette nelle condizioni probabilmente di rendere il meglio contro l'Empoli ha avuto poche opportunità colpa anche sua che non è riuscito a diciamo a costruirsele però non è stato molto assistito dalla squadra torneremo a parlare di questo e tanto altro con voi dopo la pubblicità ritorniamo a parlare di calcio partiamo dall'ambiente rosso-nero dal Milan quanto vale questa vittoria contro Venezia? è una bella domanda nel senso che allora la partita è stata francamente talmente semplice che è difficile attribuirle un grande valore cioè qualcosina abbiamo visto di diverso ma poco a me ha incuriosito dopo l'1-0 quindi che è arrivato subito il fatto che il Venezia abbia avuto due o tre opportunità per rendersi pericoloso pochi minuti dopo cioè il Milan è caduto di nuovo anche se contro un avversario diciamo da un punto di vista tecnico insomma nettamente inferiore negli stessi errori che avevamo visto nelle prime tre giornate solo che poi tu fai il 2-0 e a quel punto è tutto in discesa e la partita è finita in neanche mezz'ora però il Milan secondo me anche contro il Venezia ha commesso di nuovo degli errori che se dovesse commettere contro il Liverpool e contro l'Inter che hanno qualità ben diverse davanti rischia di pagarli ancora a carissimo prezzo come li ha pagati nelle prime tre giornate poi qualche nota interessante c'è il ritorno di Teo Hernandez e Di Leao il fatto che al di là del gol sul rigore però che si sia inserito subito Ebram che secondo me è un giocatore di cui il Milan aveva bisogno cioè un attaccante fisico che il Milan non ha avuto negli ultimi anni ha avuto Giroud ma diciamo proprio il centravanti possente fisicamente alla Ebram non l'ha avuto Ebram secondo me è una bella scommessa un giocatore per me importante riduce da un problema fisico notevole adesso sembra stare bene se sta bene secondo me può anche essere un potenziale titolare per il Milan però francamente non attribuirà i grandi valori alla vittoria di sabato ecco poi c'è appunto il Milan che sfiderà il Liverpool del quale hai parlato cosa può fare il Champions invece? ma qua vale un po' il discorso della Juve non vedo un Milan che possa essere competitivo in Champions sicuramente ha l'obbligo di cercare di passare il primo turno però francamente se l'Inter ha credo sulla carta due o tre squadre superiori ma se la può comunque giocare secondo me Milan e Juve hanno diverse squadre superiori o contro cui rischiano veramente di non potersela giocare ecco l'Inter la vedo una squadra che può mettere in difficoltà chiunque Milan e Juve no cioè il Milan già martedì contro Liverpool peraltro in casa per cui sappiamo che le inglesi in casa tendenzialmente sono meno pericolose quindi ci sono ci sono una serie di cose che diciamo propendono a favore del Milan però già quello è un test quasi proibitivo per il Milan ecco invece secondo me per l'Inter che fosse Inter-Liverpool no l'Inter può giocarsela Manchester contro il City tra il Milan e il Manchester City vedo una differenza abissale in questo momento ecco cosa ne pensi del capitano degli azzurri ancora fermo ecco e Lautaro ma allora è particolare il fatto che non allora Lautaro è indubbiamente un grande giocatore si è inceppato scrivono qui allora è un giocatore particolare perché è un giocatore secondo me forte determinante è un giocatore che non solo fa la differenza nell'Inter ma la fa anche con la propria nazionale è un giocatore che oltretutto cioè è reduce da stagioni in cui è andato sempre sopra i 20 gol quindi non si può dire che sia uno che non segna però è un giocatore che magari in due mesi ti fa 10 gol e poi in due mesi successivi non ne fa uno adesso se sommiamo le ultime partite dello scorso campionato e le prime di questo ha un digiuno molto lungo ha fatto tipo un gol nelle ultime 13 partite qualcosa di questo tipo che è molto strano per un giocatore di quel livello cioè va molto a ondate c'è il periodo in cui è incontenibile e c'è il periodo in cui fa molta fatica adesso sta facendo molta fatica e dimostra di non stare bene non sta bene da un punto di vista fisico non è brillante è incostante i numeri dicono quello che è incostante è vero che nel momento in cui lui è in forma trascina la squadra è un elemento determinante è un giocatore sicuramente importante però è un giocatore particolare cioè ormai il suo rendimento dice che è altalenante alterna delle fasi di grande brillantezza delle fasi in cui è in difficoltà poi magari adesso ci stupirà e ci metterà relativamente poco sbloccarsi e a quel punto fa una raffica di gol però è un dato è un tema il fatto che sono parecchie partite che non segna ecco poi da casa scrivono l'episodio arbitrale di ieri sera fosse successo alla Juve sarebbe stata la fine adesso senza entrare nei dettagli poi delle tiposerie però l'errore di Pairetto alla fine si riferisce al praticamente l'errore di Pairetto che non ha concesso il vantaggio su un'occasione peraltro negli ultimi minuti potenzialmente è molto importante per il Monza è un errore è un errore ha macchiato la sua gara fin lì allora è un errore indubbiamente ed è un errore grave poi non ci vedrai dietro tutta sta dietrologia o quant'altro gli arbitri sbagliano ne stiamo parlando e ne parleremo sicuramente se ne parla anche stasera Varsport e verrà analizzata sicuramente quell'episodio dopodiché insomma è un po' presto per dire se ha commesso sicuramente un errore però punto punto per ora va bene telefonata pronto buongiorno Stefania ciao da Vincenzo da Pantigliate anche a Michele buona giornata buongiorno ben trovato prego allora volevo chiedere a Michele Michele bisognerebbe fare anche complimenti al Monza che ieri sera non ha fatto giocare l'Inter come gioca di solito che dicono il turnover di qua e di là ormai le squadre giocano tutte per vincere perciò in caso fuori caso non si difende più nessuno va bene così buona giornata buona giornata cioè lui vede anche dei meriti nel Monza è giusto e anche il fatto è giusto ha ragione apre un tema interessante cioè il livello secondo me delle medio piccole a parte diciamo magari qualche le neopromosse mi riferisco al Venezia il Como che è veramente un cantiere aperto in questa fase però per esempio se noi vediamo il Parma il Parma è una squadra con un'identità già precisa che è allenata per il terzo anno consecutivo dalla stessa persona ha un'identità chiara ha dei giocatori molto interessanti che se confermeranno quello che hanno mostrato in queste prime giornate sono giocatori destinati ad andare poi in squadre anche di livello superiore e lo stessa cosa riguarda il Monza Monza non ha fatto un grande mercato sostanzialmente non ha fatto mercato ha perso almeno un paio di giocatori importanti ha perso Colpani ha perso Di Gregorio cioè comunque giocatori che facevano la differenza ha un impianto di gioco consolidato ha cambiato allenatore ha un calendario terribile perché sta affrontando tutte le squadre più pericolose ieri ecco il Monza può rammaricarsi di non essere riuscito a gestire il vantaggio perché se va in vantaggio contro l'Inter nel finale a quel punto devi cercare di vincerla e invece si è fatto raggiungere quello è un rammarico da casa ci fanno una bella domanda De Rossi mangerà il panettone a Natale De Rossi è un'altra storia interessante perché ha preso il posto di Mourinho che Mourinho a Roma era considerato veramente un intoccabile è riuscito a risultati alla mano anche se poi non è riuscito ad arrivare in Champions la Roma però ha fatto un finale di stagione molto positivo molto importante al punto che è riuscito a strappare un triennale a 3 milioni di euro netti l'anno quindi un grosso attestato di fiducia da parte della società e adesso invece la squadra non gira secondo me anche loro hanno bisogno di tempo perché hanno cambiato tanto e soprattutto hanno cambiato in ruoli chiave quindi serve tempo hanno diversi giocatori per loro determinanti uno su tutti pellegrini che non sta bene per cui è necessario aspettare un attimo per esempio in difesa sono arrivati praticamente due giocatori a mercato chiuso due svincolati quindi c'è un po' di ci sono un po' di attenuanti in questa prima giornata diciamo che De Rossi ha dato l'impressione mentre prima aveva saldamente la Roma in mano di avere le idee un po' confuse e quindi è curioso che lo mettono in discussione e è frutto del nervosismo complessivo è frutto di un nervosismo complessivo non è un caso c'è un gioco che ci fanno fare da casa ci dicono un pronostico su Juve Napoli di sabato visto che ne abbiamo parlato beh è una bella domanda perché secondo me è tra le partite più interessanti è un weekend tra Juve Napoli e il derby allora secondo me sono non tantissimi gli snodi importanti in un campionato perché poi alla fine spesso sono gli scontri diretti che decidono in un senso nell'altro qua arriva prestissimo per cui sia il derby che questa partita non possono essere decisivi presto perché abbiamo iniziato presto sì no ma perché è la quinta giornata ce ne sono tantissime ancora davanti però secondo me un'indicazione ce la possono già dare cioè se la Juve batte il Napoli è un segnale di un certo tipo che la Juve dà il campionato se il Napoli batte la Juve dà il segnale opposto se l'Inter dovesse per l'ennesima volta battere il Milan il Milan sprofondi in una crisi clamorosa se il Milan dovesse battere l'Inter invece improvvisamente risorge da quello che è stato un inizio di stagione lo abbiamo documentato ieri in Nova Stadio tra i peggiori degli ultimi dieci anni quindi sono due partite che arrivano presto ma ci possono già dire qualcosa di interessante secondo te quale delle due ci dirà di più il derby o la partita per le sorti anche dei campionati perché il Napoli è veramente forte allora io penso che se dovessi magari sbilanciarmi su un pronostico penso che la gara tra Napoli e Juve potrebbe finire con un pareggio e quindi in quel caso non ci dà grandi indicazioni il derby invece penso che ci possa dare più indicazioni in questo momento anche se nessuna delle due squadre è brillantissima l'Inter ha già una chance importante perché se batte il Milan veramente mette il Milan all'angolo cioè non dico che lo taglia fuori dallo scudetto dopo cinque giornate ma lo mette già in una situazione di grave difficoltà se invece fosse il Milan a vincere apriamo discorsi completamente diversi e nuovi l'ultima cosa poi ti lascio perché il tempo a nostra disposizione è finito però in questo giorno parla anche Fonseca è il giorno che ha sancito anche il ritorno di Ibrahimovic a Milanello che segnale è? ma allora è molto particolare la situazione di Ibrahimovic in dieci secondi è un consulente come consulente è molto presente anche se non c'è stato gli ultimi 15 giorni come dirigente è troppo poco presente secondo me devono chiarire bene qual è il suo ruolo e a quel punto capiamo anche quale può essere la sua rilevanza faranno luce sulla situazione noi torneremo ad approfondirlo domani dalle 12.30 in poi intanto un buon proseguimento qui su Telenova grazie Michela grazie a te e un saluto ovviamente a tutti voi ci vediamo domani ciao